Sei in compagnia di SPS Italian. Slow Italian. Fast learning. È la fine di un'odissea che Hakim Alareibi non dimenticherà mai. Il 25enne calciatore è ritornato a casa sua a Melbourne due mesi e mezzo dopo il suo arresto a Bangkok. Lì ha dovuto affrontare i primi passi di un caso di estradizione istigato dal Bahrain che voleva riportarlo in patria per fargli scontare una condanna a dieci anni per vandalismo. Hakim Alareibi nega le accuse e insiste che sarebbe stato torturato in caso di estradizione. L'ex Socceroo Craig Foster è stato il volto pubblico della campagna per la liberazione di Alareibi e ha dichiarato alla ABC che è stato importante rimanere positivi. La scarcerazione di Hakim Alareibi conclude un delicato periodo diplomatico per i governi di Thailandia, Australia e Bahrain. Craig Foster ha lodato il primo ministro Scott Morrison e la ministra degli esteri Maurice Payne per i loro sforzi nell'aiutare Alareibi a ritornare in Australia. Il primo ministro, a sua volta, ha ringraziato i governi di Thailandia e Bahrain. Hakeem Alareibi era stato arrestato a Bangkok il 27 novembre con un mandato di cattura in codice rosso emesso dall'Interpol su richiesta del Bahrain. Era fuggito dalla nativo Bahrain quattro anni fa ed aveva ottenuto lo status di rifugiato in Australia. Il calciatore ha dichiarato di essere stato torturato per essersi opposto al governo del Bahrain e che le accuse di vandalismo che hanno portato ad una condanna di dieci anni sono inventate. Le leggi internazionali proibiscono il cosiddetto refoulment, cioè la riconsegna del rifugiato al paese dal quale è fuggito. Nonostante ciò, una volta che il tribunale ha iniziato la procedura, vi era il timore che Hakim Alareibi potesse restare in prigione in Thailandia per un anno e che sarebbe stato estradato in ogni caso nel Bahrain. Fatima Jasbek del Gulf Institute for Democracy and Human Rights ha dichiarato che è stato un periodo lungo e impegnativo. Sono spettacolo, non ci sono parole che possono descrivere i nostri sentimenti al momento. Stavamo lavorando sul caso di Hakim da più di 70 giorni. stavamo in tensione perché la giurta diceva che Hakim resta qui almeno fino ad agosto. E oggi, sorpresamente, hanno detto che Hakim non sarà estraditato in Bahrain, altrimenti sarà voluto a Melbourne. Hakim Alareibi gioca a calcio per il Pasco Vale, un club nella State League del Victoria. La scorsa settimana il club ha tweetato di averlo iscritto nella lista dei giocatori della prossima stagione, augurandosi che potesse ritornare in tempo per giocare. Il suo caso ha attirato attenzione a livello internazionale, con giocatori da tutto il mondo che hanno espresso il proprio sostegno per il movimento Save Hakim, una circostanza che, secondo Alareibi, gli ha dato forza durante il suo periodo in carcere. Hakim sarà ora in Australia, in tempo per l'inizio della stagione del Pasco Vale. Il presidente del club, Lou Tona, ha dichiarato che il ritorno di Alareibi mostra la forza della comunità calcistica. Grazie. 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 Grazie a tutti.